L'azienda qui, non so se avete visto questi palloni che abbiamo in vetrina, è venuto l'agente di commercio e ha detto Gianni devo farti vedere una cosa, per te che sei un appassionato di basket, per quanto riguarda il basket, è malato per quanto riguarda l'Enel Basket Brindisi c'è una cosa da farti vedere e mi ha portato una foto di quei palloni che vedete qui in vetrina che sono veramente molto molto particolari si aprono, dentro c'è un uovo di Pasqua e poi la sorpresa, si allungano questi palloni, diventano un motivo di andare in giro con questo borsone qui e poterlo utilizzare non è una cosa fine a se stesso. A quel punto ho subito chiamato l'azienda, mi è venuta anche incontro e abbiamo organizzato questa serata mi sono sentito col Presidente, con Nando Marino, il quale anche lui è rimasto abbastanza contento di questa iniziativa poi con la Enrica Ignazzi e la segretaria abbiamo organizzato il tutto, perciò questa sera un grazie a tutti voi e poi adesso proseguiremo con qualcosa di particolare che man mano verrete e verrete se qualcuno vuole comprare i palloni, li vendiamo perché guardiamo anche nel lato commerciale se qualcuno vuole comprarli, qui ci sono tutti i giocatori presenti per farselo anche firmare perciò diventa una cosa esclusiva. Grazie intanto di essere tutti qui